Il giorno e la storia. Oggi è l'8 febbraio. 1849. Proclamato a Firenze un governo provvisorio. 1943. Gli statunitensi vincono a Guadalcanan. 1587. Giustiziata Maria Stewart. Commenta il fatto del giorno Maurizio Cattaneo, direttore dell'Arena. Oggi ho deciso di parlare di James Dean, una figura e un'immagine moderna sul disagio giovanile che vale ancora per quello che succede oggi. Grazie a tutti.